Sono quasi 2 milioni all'anno i decessi nel mondo causati dal lavoro, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. La maggior parte delle morti causata da malattie respiratorie e cardiovascolari, il 19% provocata da incidenti sul luogo di lavoro. Lo studio ha esaminato un periodo di 16 anni, 19 fattori di rischio, tra cui l'esposizione all'inquinamento atmosferico, agli agenti cancerogeni, rischi ergonomici e rumore. Il rischio principale è dovuto alle troppe ore di lavoro, che causa 750 morti l'anno.